Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. A Firenze è iniziata oggi la seconda fase per il preesercizio della linea 1 Leonardo della Tramvia, breve percorribile da Scandicci fino a Careggi. La linea è interessata da un preesercizio di almeno 10 giorni deciso dal Ministero dei Trasporti ed avviato il 2 luglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!